Buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale, edizione in cui vi preannuncio. Saremmo collegati in diretta con Tolmezzo, dove c'è Luciane Del Ponso che intervisterà Gloria Clama, fresca protagonista dell'ultima edizione di Masterchef. Ci andremo tra poco. Prima la cronaca e cominciamo con un incendio, un incendio divampato questo pomeriggio, che ha distrutto un casale a Zuliano, in Piazzetta degli Alpini. Sono andati distrutti legname e macchinari agricoli delle famiglie residenti nel vicino complesso. Tanta la paura in paese, visto che fiamme e fumo sono state ben visibili da lontano, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Allora andiamo a vedere le immagini girate pochissimi minuti fa da Francesca Santoro. Un violento incendio devastato un capannone agricolo a Zuliano di Pozzuolo, in Piazzetta degli Alpini. Una spessa colonna di fumo si è sollevata da arrogo, risultando ben visibile anche da lontano, così come le alte fiamme. Nell'incendio sono andati distrutti macchinari agricoli, biciclette e cattaste di legno, depositati dagli abitanti delle case vicino. Ignota la causa delle fiamme. Non si esclude né l'autocombustione né il cortocircuito. Intorno alle 15 è scattato l'allarme, lanciato da un residente nel vicino complesso residenziale, che stava andando al lavoro e si è accorto delle fiamme nel casale. Sul posto sono sopraggiunte tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto anche smontare il portone di accesso, bloccato da un blackout elettrico. Sul posto anche i carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi e a regolamentare il traffico. Il 118 è arrivato anche con l'elisoccorso, ripartito però vuoto, in quanto fortunatamente non ci sono stati feriti. Andiamo a Tolmezzo, ora dove una persona è stata fermata nella notte per il reato di tentato omicidio. Si tratta di un cinquantenne residente appunto a Tolmezzo e che è stato arrestato questa mattina. Sulla vicenda le autorità mantengono uno strettissimo riservo, ma secondo quanto si è appreso il tentativo di omicidio sarebbe avvenuto nei confronti di un congiunto dello stesso aggressore. L'uomo nella tarda serata di ieri ha colpito con una spranga il parente residente a Socchieve dopo aver danneggiato i veicoli di proprietà della vittima e il cancello della sua abitazione. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri e accompagnato in ospedale. I medici si sono riservati la prognosi. Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Del fatto è stata ovviamente informata la procura di Udine. Il contesto in cui è maturata la lite è ancora tutto da chiarire, ma secondo quanto emerso finora sullo sfondo potrebbero esserci ragioni economiche. Una scatola con all'interno dei bocconi per cani imbevuti nel veleno. A trovare la sorpresa è stata una veterinaria residente a Palmanova che ha deciso di analizzare il contenuto della scatola e poi denunciare il fatto se quando ricostruito dai carabinieri la donna ha trovato nel giardino della sua abitazione un contenitore con all'interno degli sticks imbevuti di una sostanza sospetta che fatta analizzare appunto è risultata essere materiale tossico per gli animali. Nessuna notizia da chi può aver lasciato la scatola. La donna ha comunque presentato denuncia e a far chiarezza sulla caduto ci saranno ulteriori indagini da parte dei carabinieri di Palmanova. Belle notizie in arrivo per la comunità di Premariacco. Domenica 14 aprile alle 10.45 nella chiesa di San Silvestro Papa di Premariacco alla presenza del sindaco Roberto Trentin. Il maggiore Lorenzo Pella, comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Udine, restituirà al parroco Monsignor Pietro Moratto una pistide sottratta da quella chiesa il 1 giugno 1971. L'oggetto sacro era entrato a far parte del patrimonio della parrocchia nel 1960 a seguito dell'ascito di una somma di denaro da parte di una benefattrice del luogo. Il vaso sacro in forma di coppa in argento dorato realizzato in rame tornito a mano e del valore di 5.000 euro è stato individuato e sequestrato d'iniziativa dai carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica del Capoluogo Friulano nell'abitazione di un ricettatore udinese che aveva posto in vendita online alcuni oggetti di interesse storico-artistico. Nella medesima circostanza i militari operanti hanno anche sequestrato due sedie di legno intarsiato di evidente pregevole fattura. E allora andiamo a Tolmezzo, ora raggiungiamo la nostra Luciana Idelfonso per andare a farci raccontare da Gloria Clama quella che è stata la meravigliosa esperienza a Masterchef. Buon pomeriggio Luciana, a voi! Sì, buonasera Giorgia, a te hai detto bene, siamo proprio nella cucina di Gloria che ci ha aperto le sue porte per raccontarci un po' questa esperienza di Masterchef. Innanzitutto benvenuta. Grazie, un saluto a tutti. Allora, com'è andata questa esperienza televisiva che possiamo dire ti ha cambiato la vita? Sì, alla fine mi ha cambiato la vita. Bene, è andata bene perché un secondo posto non è per niente male. Poi forse mi spaventava più vincere che non vincere, quindi il secondo mi va bene. Quindi una bellissima esperienza, mi son divertita, ho riso, ho pianto, ho scherzato. Dura, intensa, ma bella. C'è un'esperienza che si fa una volta nella vita, quindi un'esperienza che ti stegna e ti aiuta a cambiare. Quindi sono arrivata sul trampolino, ora devo solo tuffarmi. Un trampolino che è stato seguito da tutti i friulani perché per noi ufficialmente ha vinto Gloria, anche perché è riuscita a portare i sapori del friuli ai più sconosciuti, al grande pubblico. Sì, perché sono stata molto testarda, sono partita con la mia idea di portare la carnia e sono arrivata in finale rischiando e portando il fieno, il pino, portando proprio i prodotti della terra. Quindi sono partita con la mia capabilità e non ho mollato fino in fondo. Tante le ricette dove hai utilizzato prodotti tipici friulani, a partire da questi gnocchi al formato di franco, la lavanda, che sono rimasti un po' impressi a tutti anche nella sorpresa di trovare finalmente qualcuno che anche dal friuli Venezia Giulia si mettesse in gioco anche con concorrenti provenienti dalle altre parti d'Italia. Quanto è importante la materia prima nei tuoi piatti? La materia prima è essenziale, cioè il gnocco col formato di frante, proprio deve essere il formato di frante, deve essere la patata giusta, cioè deve essere la lavanda giusta, è molto importante la materia prima. Usare la materia del territorio, cioè esaltare ancora di più il territorio. Allora, per stasera tu stai iniziando già a preparare, perché i veri chef si prendono con un margine per preparare i piatti. Che cosa pensavi di proporre stasera per ora alla tua famiglia, perché poi invece le ambizioni sono più importanti? Per stasera la famiglia farò un piatto di ravioli ripieni, facciamo il ripieno con gli sclopizzi che vado fuori a raccoglierli fra poco, visto che siamo in periodo giusto e quindi facciamo un piatto di ravioli ripieni agli sclopizzi. Poi li saltiamo con un po' di burro, chiaramente, e via. Tutto il friuli non solo è pronto ad assaggiare i tuoi piatti, quindi partirai con un'esperienza tua, personale, di un ristorante magari? Sì, ci sono i progetti, sto pian piano, facendo un passo alla volta, entrando nella mia cucina, quindi adesso facciamo un passo, prima facciamo il bar, poi facciamo il ristorante, pian piano sarò nella mia cucina, quindi aprirò il mio ristorante, chiaramente in carnia a friuli e non è che posso dimostrare di fare il contrario, porto la carnia a Masterchef e quindi devo aprire in carnia, chiaramente. Nel frattempo sarai protagonista già domenica 20 aprile allo Stadio Friuli, quindi verrai alla Dacia Arena, protagonista di una delle giornate di campionato per parlare anche della tua cucina. Sì, sì, verrò a Udine, sarò protagonista allo stadio, un po' mi spaventa perché c'è un po' di gente allo stadio, quindi ci sarò, sarò presente lì, poi sarò anche a San Daniele, quindi apri a Gorizia, una festa sull'isola delle donne, quindi un po' di eventi ci sono in programma. Esatto, Gloria sarà anche una dei protagonisti degli show cooking in occasione di area di festa per portare insomma la sua innovazione in cucina anche in una delle tradizioni e delle feste tradizionali del Friuli Venezia Giulia. Allora noi ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo piatto, l'ora non è ancora quella di cena ma quasi quasi io mi fermo qui, Giorgia, per cena così assaggio direttamente questo primo piatto con lo sclopit che insomma di stagione è assolutamente ottimo. Gloria grazie intanto. Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao. Grazie, grazie mille, sì Luciano assolutamente, ti consiglio di fermarti, anzi se puoi portaci anche un assaggio insomma, ci siamo anche noi, ricordati dei colleghi. Beh, simpaticissima Gloria Clama, molto determinata nel portare avanti i valori e i sapori della Carnia ci ha fatto davvero piacere così entrare nella sua cucina dopo che ne abbiamo seguito le gesta appunto nel corso di Masterchef. Torniamo alle notizie di giornata, parliamo di sagre ed eventi in regione perché sta ovviamente entrando nel vivo la stagione dedicata a questo tipo di eventi e allora questa mattina abbiamo fatto il punto sui prossimi appuntamenti in calendario con il segretario del comitato Proloco del Fiori Venezia Giulia, sentiamo. Col fine settimana di Pasqua un po' si dà via il periodo degli eventi e delle manifestazioni nei nostri paesi, nei nostri comuni, quindi ci siamo appena lasciati alle spalle ovviamente la fiera del vino di Bertiolo, un altro grande evento che avremo fra poco sarà la sagra del vino di Casarsa della Delizza per andare al di là del tagliamento, altro grande evento che partirà poi sarà la festa degli asparagi a Tavagnacco qua vicino a Udine e maggio è per eccellenza e per definizione il mese di sapori Proloco a Villa Manin di Passariano dove si potranno trovare oltre 30 Proloco del Friuli Venezia Giulia che proporranno le proprie tipicità e eccellenze enogastronomiche che poi ritrovate nelle varie manifestazioni dalla Carnia alle Dolomiti Friulane all'Isontino, un po' tutto il territorio della nostra regione, quindi un appuntamento assolutamente da non perdere l'11-12 e il 17-18-19 maggio. Per quel che riguarda sapori Proloco però c'è una novità che ci interessa e che ci riguarda direttamente perché ci sarà un evento speciale. È vero perché ospiteremo domenica 13 maggio a Villa Manin sul Prato la Coppa dell'Europea degli europei Under 21 che poi vedranno proprio qua a Udine la finale, quindi se qualcuno è curioso venire a sapori Proloco sarà un motivo in più anche per vedere la Coppa dei campionati europei Under 21. Torna il Far East Film Festival a Udine dal 26 aprile al 4 maggio. Protagoniste di questa ventunesima edizione saranno Cina e Corea, quest'ultima produttrice del film d'apertura in anteprima mondiale dal titolo Birthday. Fari puntati su due superstar. Scopriamo tutto nel servizio di Valentina Bearsi. Il festival è proprio nato su questo concetto di collegare due mondi 20 anni fa assolutamente distanti come erano appunto l'Europa con l'Estremo Oriente che comprende in totale 12 cinematografie nel nostro caso. Quindi abbiamo 76 film da 12 cinematografie che mostreremo, 51 di questi sono in competition, 14 di questi sono opere prime per cui il legame, quel legame che in questo momento è ancora più forte con questa nuova ferrovia e via della seta è ancora più evidente in questa edizione di Faris Film perché abbiamo tantissimi film appunto da Cina e Corea soprattutto. Il festival in verità è un insieme di tanti festival diversi perché parla agli appassionati di cinematografia, parla alla cittadinanza comune che viene coinvolta comunque dal Faris, parla a chi invece del cinema fa un business vero e proprio, parla agli appassionati di giornalismo e quindi ci sono tanti festival in uno. Sicuramente perché questi 20 anni si sono sviluppate molte delle peculiarità, delle caratteristiche appunto dell'idea iniziale che avevamo di Faris Film 20 anni fa per cui abbiamo incrementato sia la selezione dei film che anche abbiamo creato degli spazi dedicati a chi i film li sta progettando per il futuro. Quindi c'è un mercato di progetti all'interno di Faris dove presentiamo 15 progetti da 10 paesi diversi e in più c'è Ties the Mind che è appunto questo workshop dedicato ai produttori con un progetto che si incontrano e cominciano a conoscersi per anche cercare possibili finanziatori, possibili coproduttori, possibili anche filmmaker. Ovviamente non mancheranno gli ospiti internazionali che quest'anno probabilmente porteranno tantissimi follower. Sicuramente perché abbiamo Anthony Wong, l'hai citato tu, l'Oscar alla carriera, uno dei più grandi attori del cinema di Hong Kong ma anche una delle star internazionali perché ha lavorato a Hong Kong ma non solo a Hong Kong, anche a Hollywood e lo premiamo appunto con il premio alla carriera. Ma a fianco a lui c'è Yao Chen che appunto abbiamo definito oggi in conferenza stampa proprio la miss 80 milioni di followers perché è vero il suo Weibo che corrisponde al nostro Facebook potremmo dire al nostro Twitter è seguito da 80 milioni di persone in Cina. Lei è un'attrice straordinaria, molto conosciuta anche per il suo impegno politico e sociale per cui l'hanno definita la nuova Angelina Jolie, l'amano definire così e sarà qui con noi a presentare questo thriller che si chiama Lost Found che presentiamo appunto in Anteprima Europea con lei. Altro evento presentato oggi a Udine si tratta della non edizione della Biennale di Architettura che sarà inaugurata il 12 aprile e durerà fino al 3 di maggio. Diverse le novità in programma, verrà inoltre assegnato il premio Marcello Dolivo. Sentiamo. Si presenta la nona edizione della rassegna Biennale di Architettura, Giovanni Vraiaz. Quali saranno le caratteristiche di questa edizione? Le caratteristiche di questa edizione quantitative sono 100 progetti presentati, opere costruite, esclusivamente costruite nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia, presentate da circa 75 progettisti. Posso sintetizzare una constatazione immediata che la qualità media di questi progetti si è innalzata rispetto alle ultime edizioni in quanto sono passati circa 8 anni, 9 anni dall'ultima nostra edizione e si è evidente questa qualità media superiore che io ritengo essere legata in parte alla presenza di nuove generazioni di architetti che hanno una curiosità intellettuale, una visione di scala per quanto meno europea. Di fronte a questa constatazione sentivamente positiva va ricordato come il territorio e il friulano abbia continuato ad essere malamente utilizzato, le architetture come spezzi singoli non riescono a produrre una qualità collettiva. In occasione di questa importante rassegna di architettura friulana, l'Ordine degli Architetti in stretta collaborazione con l'Associazione Arte e Architettura, ormai siamo praticamente quasi lo stesso organismo. Abbiamo organizzato due mostre, due proiezioni cinematografiche e una conferenza sulla mobilità che cercheranno di fare un po' il punto sull'architettura contemporanea. Le due mostre si occupano dell'architettura alpina e soprattutto del rapporto fra l'architettura alpina e la tradizione costruttiva delle nostre montagne. Una riguarda l'architettura slovena, l'altra si chiama invece tradizione tradimento e pone proprio l'accento sul rapporto col contesto. Andiamo a teatro ora al Verdi di Gorizia per il musical evento dedicato ai Queen We Will Rock You. Ambientata in un futuro non troppo lontano, la rock opera è corredata dalle più grandi canzoni della band. Sentiamo. Tutto esaurito e una lunga lista d'attesa hanno premiato la tappa al Teatro Verdi di Gorizia di We Will Rock You, il musical evento interamente dedicato ai Queen che prende il nome dall'omonimo successo della storica band. Forte del libretto di Ben Elton, scritto in collaborazione con due dei componenti del gruppo, Brian May e Roger Taylor, la rock opera è tornata in scena in una versione completamente rinnovata, con le canzoni dei Queen rigorosamente eseguite dal vivo. Lo spettacolo è ambientato nel futuro, tra 300 anni, in un luogo una volta chiamato Terra e ora diventato pianeta Mol, vittima della globalizzazione più totale, un pianeta dove il rock è bandito e i suoi seguaci vivono nascosti. La Global Soft, capeggiata dalla spietata Killer Queen e dal suo collaboratore Cachoggi, cerca di stanare la resistenza di un gruppo di bohemians che attendono l'arrivo degli eletti che restituiranno la musica al pianeta, l'ingegno Galileo e la volitiva Scaramouche. Cambiamo genere e teatro. Andiamo al Bobbio di Trieste dove ieri sera c'era Federico Buffa, lo spettacolo teatrale si chiama Il rigore che non c'era, diretto da Marco Caronna con la partecipazione di Von Gio e Alessandro Nidi. Vediamo. Federico Buffa incanta il numeroso pubblico di Trieste. Arriva anche in Friuli Venezia Giulia Il rigore che non c'era, lo spettacolo teatrale diretto da Marco Caronna in cui, a contrario di quanto si possa pensare, non parla esclusivamente di sport. Tanti sono i riferimenti sportivi inseriti nel copione, ma per godersi il suo spettacolo non è necessario essere appassionati, anche perché vengono svelate diverse curiosità che sono poco note anche a chi lo sport lo vive in prima persona. Il rigore che non c'era è uno spettacolo pronto ad entrarti dentro grazie alla voce eterea e coinvolgente di Jivon Gio e alla maestria di Alessandro Nidi. Ad insegnarti qualcosa, come sempre ha fatto Buffa nella sua carriera da raccontastorie e a farti riflettere. Le ipotesi di una vita diversa in relazione ad eventi successi all'improvviso, quel sé ipotetico che accompagna tutta la messa in scena dello spettacolo, che raccoglie momenti storici di diverse epoche e che da quando entra in scena calciando un rigore, Federico Buffa inizia ad approfondire. La storia finisce con un altro calcio di rigore, sempre argentino, ma del tutto casualmente è successo perché questo spettacolo è uno spettacolo in evoluzione. Volendo potremmo toglierne un pezzo e fare cinque minuti su Eleonore Ludinese. Non succederebbe niente, se è d'accordo il tecnico delle luci si potrebbe fare. Infatti in ogni sera cambiamo almeno una piccola parte in relazione alla città dove ci troviamo. Si potrebbe fare anche molto di più. L'idea originaria di Marco era un'improvvisazione continua e cambiata tutte le sere. Questo è un grande colpo di scena, da cantante sotto la doccia come in tanti, grazie al grandissimo maestro Nidi che è riuscito a tirar fuori anche questa parte, mi ha davvero sorpresa. Mi piace, non posso dire che sono una super cantante con una tecnica perché non ce l'ho in realtà la tecnica, ma sicuramente ci metto cuore e emozione tanta. Gli artisti questa sera a 10 aprile saranno al Teatro Comunale di Cormons per un'altra tappa del tour e a proposito di dubbi e incertezze a noi spettatori di Trieste rimarrà il dubbio di come sarebbe stato partecipare allo spettacolo in programma quest'oggi. Tra poco continueremo a parlare di sport con le ultime che riguardano l'Udinese, ora apriamo una finestra velocissima sui fatti di oggi con la collaborazione dell'Ansa. Abbattute tre strutture abusive di proprietà del padre del vice premier a Di Maio nel comune di Mariglianella nel Napoletano, su cui pendeva un'ordinanza di abbattimento. Rigettate in parte le contradduzioni presentate da Antonio Di Maio perché uno solo degli iniziali quattro manufatti ritenuti abusivi è stato realizzato prima del 1967, anno in cui è entrata in vigore la legge sull'edilizia. I restanti tre non erano quindi a norma. Antonio Di Maio ha ammesso l'abuso e ha provveduto all'abbattimento. La vice ministra degli interni americana Claire Grady ha offerto le sue dimissioni a Donald Trump e lo ha twittato l'ex responsabile dello stesso dipartimento Kirsten Nielsen, costretta a lasciare dopo la decisione del presidente di rinnovare i vertici del di Castero per imporre una linea più dura sull'immigrazione. Vattene, l'ordine è divenuto uno slogan secco come una fucilata, è stato scandito ogni venerdì per sei settimane da una folla immensa scesa in strada in tutta l'Algeria contro l'ormai ex presidente Abdelaziz Bouteflika, che alla fine la settimana scorsa si è dimesso. Ad Algeri vattene risuonato ancora contro il suo successore Abdelkader Ben Salah e le forze di sicurezza non l'hanno presa bene, hanno reagito con gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e manganelli. Ben Salah, 77 anni, capo del Consiglio della Nazione e presidente del Senato, è stato nominato dal Parlamento presidente ad interim in base alla Costituzione con un mandato massimo di tre mesi per portare il Paese ad elezioni presidenziali alle quali non potrà peraltro candidarsi. La sua nomina era attesa e per questo appena è stata annunciata nell'arco di meno di un'ora i manifestanti sono scesi prontamente in strada a migliaia dando vita all'ennesima protesta. Venerdì scorso, tre giorni dopo, le dimissioni di Bouteflika in tutta l'Algeria c'erano state ancora delle manifestazioni per chiedere un completo rinnovamento della classe dirigente vista come una sorta di estensione dello stesso Bouteflika. Jacopo Romeo, veniamo subito da te per farci raccontare la giornata dell'Udinese. Buon pomeriggio. Ciao, ciao Giorgia. Buon pomeriggio anche a te. Giornata che ha segnato il ritorno al lavoro e il ritorno in campo insieme ai compagni anche di Amy Alfredson che si è allenato insieme all'arresto della squadra dopo uno stop decisamente lungo perché lui anche prima di rientrare qui a Udine di sottoscrivere il contratto con l'Udinese, cosa che è accaduta a fine febbraio ed inizio marzo, era già qui a curarsi dopo l'intervento al ginocchio subito nello scorso mese di dicembre quando ancora era un giocatore del Frosinone. Il resto della squadra è tornata a allenare come ti dicevo dopo il giorno di break avuto ieri. Dunque si avvicina sempre di più a quella che sarà la partita contro la Roma. Alcuni giocatori hanno svolto il lavoro personalizzato come per esempio Samir che ha iniziato in gruppo e poi dopo ha proseguito individualmente. È il stesso discorso anche per Nacio Pussetto che ha saltato le fasi finali dell'allenamento per rispettare un programma già prefissato. Dunque non c'è nessun tipo di problema fisico per entrambi, semplicemente hanno seguito il regime di allenamento che era stato precedentemente concordato con lo staff sanitario. Mentre si è allenato sulla via del recupero all'infortunio muscolare che lo aveva colpito anche Bram Noiting, ma lo ha fatto prima dei suoi compagni di squadra. L'olandese si è allenato dunque questa mattina presto individualmente sui campi del Bruseschi. Si avvicina al suo recupero ma non ci sarà, salvo miracoli, per le due gare di Roma contro i giallorossi e contro la Lazio. Questo per quanto riguarda il punto sugli infortunati. Dopodiché c'è da dire che anche quest'oggi, anche questa settimana rappresenta l'allenamento della proprietà nella figura di Gino Pozzo che insieme a tutta la dirigenza ha assistito alla seduta odierna. Un po' come da tradizione, un po' come costanza nelle ultime 3-4 settimane da quando è ritornato in panchina, un mister Igor Tudor che per prima cosa all'inizio dell'allenamento ci ha tenuto a rimettere sulla corda prontamente il suo e ha detto che non abbiamo fatto nulla, abbiamo vinto l'Empoli, era una partita importante, adesso però abbiamo un'occasione per dimostrare ancora una volta chi siamo a Roma contro la Roma, un po' come era successo a San Siro contro il Milan. Dunque tratto subito a gamba tesa come nel suo stile mister Igor Tudor per evitare che chiunque possa essersi seduto sugli allori dopo questi sette punti conquistati in tre partite sotto la sua conduzione. Eh sì, c'è ancora un pezzo di campionato e una salvezza da conquistare insomma, è vero che la settimana poi con tre risultati utili e consecutivi ha ridato grande entusiasmo, ma c'è ancora un pezzo di percorso da fare e va fatto con la stessa intensità che abbiamo visto appunto nella squadra da quando è arrivato Igor Tudor. Ci fermiamo qui, parleremo di Udinese anche questa sera come sempre nella nostra edizione delle 19 in cui riassumeremo tutti i fatti del giorno. Buon proseguimento di serata.